Come iscriversi. Shorts TV Prime Video. Ciao va tutto bene? Benvenuti nel canale Prime Streaming. Dove porto suggerimenti per aiutarti e rispondo anche a diverse domande. Oggi ti insegnerò come iscriversi. Shorts TV Prime Video. Ma prima di continuare il video, vorrei chiedervi di mettere mi piace e di iscrivervi al canale. Ricordando che lascerò i link di questa promozione nella descrizione e nel commento appuntato. E alla fine del video un consiglio bonus segreto. Andiamo. Come iscriversi. Shorts TV Prime Video. È molto semplice. Questo è passo dopo passo. Numero 1. Fare clic sul collegamento nella descrizione o nel commento appuntato per accedere alla vendita scontata. Numero 2. Questo ovvio primo passo non è meno essenziale. Se non hai già un account e-commerce. Ci vorranno alcuni minuti per crearne 1. Numero 3. Seleziona. Nuovo cliente. Inizia qui. Numero 4. Inserisci il metodo di pagamento. Devi portare la tua carta di credito. Ovviamente valida. Compila i campi corrispondenti. Numero 5. Tutto quello che devi fare è inserire i tuoi dati personali. Indirizzo email. Nome. Password. eccetera. Numero 6. Ora è basta guardare. Pronto e fatto in meno di 5 minuti sarai in grado di utilizzare la piattaforma. E come promesso ti darò una mancia bonus. Nella descrizione lascio una promozione su prime video. Amazon Music Unlimited e Kindle Unlimited per un periodo di prova gratuito. Corri lì e divertiti. Non dimenticare di mettere mi piace e iscriverti. Sono andato.